ciao a tutti benvenuti nuovo video per la serie affitti brevi in 30 giorni abbiamo toccato sino ad oggi tantissimi temi importantissimi se non avete visto i video che abbiamo già fatto mi raccomando andatevi a pescare cliccando qua sul canale dove trovate decine e decine di video e prima di affrontare il tema di oggi vi voglio chiedere una cortesia ovvero di iscrivervi al canale che non vi costa assolutamente nulla ma ci dimostra che effettivamente apprezzate il lavoro che facciamo di mettere un bel mi piace e al termine del video di leggere ciò che abbiamo scritto in descrizione perché abbiamo due regali per voi come avrete potuto intuire dal titolo di oggi andremo ad analizzare una serie di annunci negativi e positivi nel senso annunci fatti male e annunci fatti bene fatti bene che cosa significa che rispecchiano quello che è il metodo bnb academy dove la fa da padrona l'eleganza la funzionalità l'efficacia ma facciamo un passo indietro chi chiunque può pubblicare un immobile su airbnb magari arriva un immobile in eredità che ci ha lasciato nostra nonna possiamo fare due foto col telefono scrivere casa di mia nonna e pubblicarlo su airbnb quindi airbnb è assolutamente democratica e permette a chiunque di caricare un annuncio sulla piattaforma il problema è che un annuncio caricato così non necessariamente funziona o comunque non sta sfruttando tutte le potenzialità guadagna molto meno rispetto a quello che potrebbe guadagnare se venisse seguito il metodo bnb academy e quindi un po di tempo fa qualche giorno fa rispetto alla data odierna ho realizzato una live gratuita una consulenza di gruppo per chi mi segue su instagram quindi ti consiglio di farlo per non perderti eventuali iniziative del genere future e tra le varie cose ho analizzato annunci scadenti e annunci buoni quindi annunci che rispecchiassero in totalità o nella loro parzialità diciamo quello che il metodo bnb academy quindi in questa live andremo ad analizzare due tipologie di annunci annunci veramente malfatti che hanno un grandissimo potenziale inespresso e annunci che possono essere stati fatti bene gli annunci che andremo a vedere sono annunci ben fatti non sono necessariamente perfetti però comunque sono ben fatti e soprattutto si nota colpo d'occhio quando un annuncio è stato fatto bene e quando un annuncio è stato fatto male ma da a che pulpito arriva questo genere di recensione beh io personalmente nella mia carriera ho avviato centinaia di mobili in affitto breve bnb academy la mia accademia di formazione è la più grande d'europa con oltre 4000 studenti ho anche un franchising di affitti brevi che si chiama rental pro con oltre 130 affiliati quindi qualcosina di affitto breve ne capisco e soprattutto dopo aver formato 4000 persone aver visto il successo di tantissime persone che hanno seguito il mio metodo posso dirmi confidente nel fatto che se reputo un annuncio un buon annuncio è perché lo è davvero ma non voglio sedermi qui sul trono a dire il tuo annuncio è pessimo il tuo annuncio è perfetto voglio farlo motivando il perché un annuncio è un cattivo annuncio e il perché un buon annuncio è un buon annuncio e questo appunto avverrà estraendo delle clip da questa live che ho fatto quindi magari il tono sarà molto colloquiale però è una live che è stata super apprezzata con decine e decine di feedback positivi persone che mi hanno ringraziato per l'altissimo valore che abbiamo dato in questa live ecco perché vi consiglio di rimanere attaccati fino alla fine perché veramente vedremo degli annunci molto interessanti e se questa tipologia di video ti è piaciuta fammelo sapere nei commenti così ne farò altri vi faccio prima vedere quello che io reputo un cattivo annuncio ma che comunque funziona bene e vi faccio notare come nonostante sia un cattivo annuncio in questo caso abbia comunque dei numeri interessanti quindi immaginatevi se fosse un annuncio curato per file per segno faccio vedere questa casa esempio che non so di chi sia ho trovato completamente a caso appartamento chic a 500 metri stazione centrale io le ho dato un altro titolo le foto non sono professionali o ragazzi nonostante tutto questo c'ha 241 recensioni una media migliorabile però foto è una buona foto però scattata col cellulare tutte queste grucce vuote tutto vuoto almeno insomma dare un po di riempimento 69 foto della cucina le foto di ogni singolo cassetta aperto il frigorifero visto vuoto così secondo me è terribile la foto del citofono chi se ne frega del citofono qua si potrebbe mettere una mensola piuttosto che lasciare questo modem che fluttua nell'aria logo di netflix la tv che si vedono tutti i cavi sotto insomma è molto migliorabile questa foto l'avrei fatta con le abajur accese il letto tra l'altro sembra anche tipo una piazza e mezzo non sembra manco due due piazze non è un buon annuncio è un bel immobile sì non è un buon annuncio vado a milano mi trovo un coso che ho scritto city of westminster cioè sono a milano mi metti un bel quadretto con la foto del duomo di milano i navigli come quelli che vai a milano e c'è una foto sempre di londra o di new york perché c'era il quadro all'ikea c'è un minimo di di consapevolezza di che cosa stiamo facendo queste foto sono terribili non hanno nessun tipo di senso logico per un monolocale 36 foto siamo a un carcere non so il cancello condominiale ma sembra veramente un carcere altra foto completamente inutile foto inutilissima abbastanza inutile insomma vabbè siamo capiti non è un ottimo annuncio nonostante ciò lavora bene e quindi io mi chiedo ma se questo annuncio seguisse quello che spieghiamo ai membri academy quanto in più potrebbe generare minimo di tre notti ragazzi io li immobili in stazione centrale cioè li ho la gente vuole stare una notte e poi prendersi il treno per andarsene a napoli poi in costiera amalfitana non si vuole fare tre notti in stazione centrale e infatti poi affitta 76 euro a notte ma perché troppo stringente poi certo con tre notti lui magari è contento si mette in tasca 300 euro ma questo qua è un immobile che se ce l'avessi in mano io sarebbe almeno a 100 euro a notte minimo 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 e poi ve l'ho già fatto vedere invece come un buon annuncio no dalle prime immagini vedo bene o male un tour della casa le foto sono professionali c'è il loghino di netflix le descrizioni eccetera eccetera descrizione come vedete non è un muro di testo unico ma ogni spazio viene descritto a sé quindi quasi parla del salone vasto salone dotato di tutte le comodità un comodo divano che all'occorrenza diventa letto smart tv curva 55 pollici con netflix amazon prime youtube climatizzatore e vari giochi da tavolo molto divertenti camere da letto dispongono di comodi letti matrimoniali e cuscini spaziosi guardaroba bagno moderno completo dice c'è un minimo di storytelling non dico che fa sognare la persona come se fosse però non era come prima aria condizionata più tv più quello cioè non che sembra veramente un'equazione matematica bisogna un minimo un minimo dedicarci si questo anche qui c'è sembra la lista della spesa un comodo letto matrimoniale un guardaroba una cucina una piastra induzione un forno a micro cioè e poi anche i testi bisogna assicurarsi di utilizzare una terminologia adeguata perché comunque questi annunci vengono tradotti in automatico da airbnb e se utilizziamo parole strane particolari non mettiamo bene la punteggiatura rischiamo che la traduzione che fa airbnb nelle varie lingue del mondo sia una traduzione scarsa e che quindi poi uno non prenoti perché non capisce niente di quello che c'è scritto mi ricordo una scena che mi sembrava fatto una lezione dentro bnb academy cercava immobili in norvegia usciva giardino violento in italiano non so che caspita di titolo aveva messo questo in norvegese e airbnb me lo traduceva in italiano con giardino violento mi sembra che c'è una lezione dentro bnb academy come caso studio proprio su sul come non sbagliare i titoli titolo troppo corto hai molto più spazio utilizzalo il titolo è veramente troppo corto foto le prime cinque foto sono tutte della piscina sembra che tu mi affitti solo la piscina mentre le prime cinque foto devono darmi una piccola panoramica di quello che l'immobile a 360 gradi ovvio è un immobile sicuramente grande non puoi farmi vedere tutta la casa in cinque foto però piscina 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 spazio esterno della piscina spazio queste sono la quindicesima foto ancora non ho capito dove io dormo se soggiorno in questa casa basta è un annuncio basato sulla piscina io dormo in piscina se soggiorno in questa casa non si può vedere la descrizione è cortissima cioè una casa del genere avrebbe bisogno di una descrizione molto più ampia questo di airbnb l'ho creato ieri e perché l'hai pubblicato c'è anche questa cosa la gente che intanto lo pubblico poi fa no perché se uno capita oggi sull'annuncio lo boccia capisci lo boccia quindi tu devi pubblicare un annuncio quando è pronto non pubblicarlo tanto per anche perché airbnb se vede che nel primo nei primi giorni che online la gente clicca e va su un altro annuncio dirà questo annuncio non è interessante non lo spingo al contrario se l'annuncio è fatto bene i primi click magari la gente ci si soffermerà tanto tempo e ci ci starà di più e poi mi dici posso mandarti il link di booking no perché non è che booking lo faccio bene al bmb lo faccio male devono essere tutti fatti bene comunque booking è un casino da analizzare e darti delle dei feedback perché poi parti del testo in realtà lo scrivono loro quindi preferisco rimanere reputo molto più semplice analizzare il tutto su su airbnb però ragazzi non pubblicate gli annunci fino a che non sono pronti cioè veramente questo è un è un errore secondo me importante check in dopo le 16 check out dopo le 10 descrizione ripeto è minuscola deve essere molto più molto più ampia e in generale io piuttosto farei l'annuncio un altro annuncio fatto bene su questa casa quando è pronto lo pubblichi perché questo più tempo lo lasci così peggio è purtroppo non c'è molto da analizzare vediamo ponente portorotondo vi do delle osservazioni molto rapide ragazzi sono perso un pezzo stasera è una serata all'insegna della sardegna allora ponente bilocale moderno con quattro posti letto ponente se il nome proprio che gli ha dato tu alla casa io sarei sempre per non dare nomi propri almeno che non parliamo di ville famosissime villa certosa dice che la villa certosa alzo le mani so che che villa è però eviterei il ponente come nome proprio eviterei il bilocale perché è una cosa molto riduttiva cioè quindi volta a scrivere monolocale bilocale è una cosa secondo me che è un semplice bilocale quindi no quattro posti letto è una cosa assolutamente un'informazione inutile perché tanto leggo qua sotto c'è scritto quattro ospiti quindi sfrutterei questo spazio a disposizione per comunicare altro la vicinanza a determinati posti i servizi che offri come dicevo prima se tu analizzi la maggior parte dei competitor non ha l'area condizionata cazzo scrivimi nel titolo che tu hai l'area condizionata perché gli altri non ce l'hanno e nella descrizione mi dirai questo è uno dei pochissimi immobili nella zona con l'area condizionata e quindi tu automaticamente ti stai sopraelevando rispetto agli altri le foto non sono professionali questo lo si vede sin da subito ahimè foto in verticale ho detto ragazzi ve lo sconsiglio perché vedo più spazio nero che foto qui qua sotto assolutamente mettici qualcosa perché troppo vuoto un bel logo di netflix ma comunque rifate le foto professionali dentro bambi academy avete un sacco di fotografi certificati che potete utilizzare per i vostri immobili qua ragazzi stirate mettete poi un copri piumino anche se sono località estive una sola bajure quello dall'altra parte se vuole leggere non può farlo insomma non perdetevi in queste cose qui per favore o cancellate con photoshop questi cavi aggrovigliati o nascondete dietro per fare la foto e dopo attaccate si possono vedere ste cose sta foto anche insomma non è professionale il bagno carinissimo per carità ma non è professionale anche qui cercate di abbellirlo una piantina finta dell'ikea madonna quando vedo questi tubi a vista così la casa è buona questa con 200 euro di fotografie fa il doppio l'etichetta e le plastiche sulle sedie ragazzi dio buono imbandite un po' la tavola un po' di vivacità un po' di tocco artistico cos'è questa foto qualcosa tutto vuoto qua qua per dire no poi io non mi metterei mai a mangiare con praticamente quello a fianco cioè mettete una siepe una pianta finta un qualcosa di carino per suddividere gli spazi creare un po' più di privacy e poi qua creando privacy uno ci schiaffa anche una bella jacuzzi gonfiabile e via per il resto l'immobile è molto carino come dice Giacomo può essere ottimizzato mancano le foto dei punti di interesse il titolo l'abbiamo già detto è quel che l'è il testo è cortissimo cioè guarda la lunghezza del tuo testo guarda la lunghezza di un mio testo ma anche perché non sono cioè ogni spazio che crea Airbnb nell'annuncio dei dettagli delle descrizioni va compilato qua è compilato solo forse il primo ma poi ci sono mille spazi da compilare ogni spazio va compilato perché Airbnb li fa per un motivo poi spendo più di pulizia che di costo per notte piuttosto aumenta il prezzo per notte abbassa la pulizia perché secondo me stona come cosa e poi mi dici che c'è un divano letto come dicevo prima ma non c'è neanche una foto del divano letto aperto quindi stona anche questo procediamo una con Valentina allora io sono quello che si è inventato le grafiche nelle foto ma queste forse sono un po' troppo grosse ce le farei un po' più no? un po' più delicate dopo di che non sono foto fatte da un fotografo e se le ha fatte un fotografo arrestatelo però almeno c'è il lucchino di Netflix a prezzo anche qui questo è un divano letto ok c'è aperto non è proprio il modello più comodo però c'è il lavandino prima di entrare in bagno particolare come soluzione questi mobiletti un po' vecchio stile secondo me abbellendoli con ancora una volta una piantina finta Ikea che casca di sotto un po' di colore secondo me può essere migliorato poi pranzare con l'aspirapolvere a fianco ha un effetto fisheye questo annuncio si è fatto tutto col grandangolo un po' troppo troppo e poi questa foto così mi sembra praticamente che è la cosa più vicina al McDonald che non penso volesse essere questo il senso della foto cioè metti una foto dell'arena di Verona e mi scrivi dieci minuti questa roba qui la prima cosa che mi casca all'occhio a me è il McDonald idem con patate metti la foto dell'aeroporto e poi scrivi dodici minuti questa della fermata dell'autobus ok può comunque essere fatta meglio qua mi metti poi un quadratino con la foto della fermata e mi dici dove vado con quell'autobus perché io che arrivo da fuori tu mi dici bus stop tre minute walk sì e con l'autobus dove ci vado? al cimitero? non lo so spiegami con questo autobus vicino a cosa sono e in generale alla foto dell'aeroporto mi dici poi appunto ci arrivo con l'autobus in tredici minuti no venti minuti insomma molto migliorabile poi c'è la foto all'arena di Verona qua mi scrivi la distanza e quant'altro insomma molto migliorabile secondo me self check in con il lucchetto metterei piuttosto la la chiave foto di profilo ok si vede bene si sorridente accogliente descrizione totalmente cannata qua nei 500 caratteri hai cercato di spiegare più o meno la casa quando qua in realtà devi fare un riassunto a 360 gradi e poi qua mi hai fatto hai scritto praticamente più sui mezzi di trasporto che sulla casa è anche una casa insomma tutto sommato abbastanza grande quindi roba da descrivere ce l'hai non hai assegnato tra l'altro le foto agli spazi cioè lui mi ti dice mostrami qual è il soggiorno tutte queste sono le foto del soggiorno qual è la camera da letto io qua l'ho fatto infatti mi dice dove dormirai camera da letto 1 camera da letto 2 divano letto purtroppo qua non mostra la foto del divano letto però il senso è quello qua tu non hai assegnato le foto agli spazi vedi che poi ti fa una suddivisione salotto cucina zona pranzo camera da letto 1 bagno patio cazzi e mazzi questo te lo fa Airbnb se assegni le foto agli spazi vediamo poi vabbè non ho visto i costi di servizio che sarebbe meglio non mettere a carico degli ospiti tutte queste cose qui comunque Matteo utilizzo solo booking per questo immobile è un errore è un errore perché utilizzi solo booking per questo immobile scusa che non ha le tutele che ha Airbnb e tutto quanto la casa di Sofia che tipo di informazione è? cioè dovrei prenotarla perché si chiama la casa di Sofia? poteva chiamarsi la casa di Mario Luca e l'avrei prenotata lo stesso quindi ancora una volta non date nomi propri alle case chi se ne frega appartamento lo vedo che è un appartamento non mi interessa io questa cosa qui la chiamerei magari chalet perché mi dà l'idea di essere uno chalet di montagna anche se a quanto pare è al mare chalet rustico con vista mare e aria condizionata per dire se hai questa è in Sardegna mi sa adesso mi sembra Alguero mi sembra stile sardo quando ho visto alcune cose ho detto questo è stile sardo un po' un mix tra baita di montagna è molto piena molto piena sì sicuramente molto carica però se hai l'aria condizionata adesso non lo vedo adesso ho wifi scriverei appunto non so chalet vista mare con wifi e netflix io in molti appartamenti soprattutto magari quelli che non hanno delle grosse peculiarità nel titolo metto sempre free wifi e va va molto perché ormai gli stranieri aria condizionata è wifi le prime due cose che guardano è quello guarda cosa c'è qua una bella madonna c'è anche un rosario l'ho visto l'ho visto a qualche parte il rosario adesso non hai avuto il tempo di attuare il tutto togliete tutti i riferimenti religiosi ragazzi le tv non mi sembrano smart cambiale o mettici un qualcosa che le renda smart tipo il google chromecast i dettagli li lascerei per ultimi cioè quindi prima mi fai vedere tutta la casa poi alla fine mi metti i dettagli però che vedo prima i dettagli poi magari le peculiarità poi certi dettagli sono inutili tipo questa foto qua anche questa cioè la casa va alleggerita però è molto bella poi questo letto sembra largo cioè sembra non capisco un letto un divano una camera secondaria non lo so questa foto lo fa sembrare non capisco onestamente ci si dorme lungo e largo oddio se poi devi affittare principalmente d'estate la foto del termosifone portatile qua lasciando che sembra che c'è una macchia tipo di nuca però Guadalguero è una delle città con l'occupazione più alta in Sardegna però io magari d'inverno quello io lo farai vedere perché comunque fai vedere che anche d'inverno è riscaldata io per come ognuno giustamente c'ha le sue strategie queste foto le metterei da settembre in poi un po' strana sto cavo in mezzo alle balle così e poi vedo delle foto di bambini però più che altro è molto carica questa casa questa va proprio alleggerita di brutto è una casa personale c'è una pistola qua in alto spero sia forse un fucile da pesca finta perché se è vera potrebbero bannarti la bambina credo sia un fucile da pesca fatto in legno anche pesciolini esche da traina è rischioso è veramente rischioso perché se becchi quello pignolo con questa scusa ti bannano l'annuncio da rbnb e toglierai ovviamente tutte le foto di te da bambina queste cose qui e vabbè le foto dei punti di interesse qui mi dici vista mare però una bella foto della spiaggia per dire dicendomi dista 15 minuti manca la tua immagine è minuscola metti un'immagine incentrata sul viso e la valutazione è pessima è terribile 3.67 piuttosto creati un nuovo account perché non prenoterei mai da un host che ha una valutazione di 3.67 male 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 purtroppo perché sono due recensioni sarà su un altro annuncio mi sa o su questo annuncio l'hai rifatto lavoro fiorista fiorista ok anche qui a volte su me su Airbnb è un po' un conto perché mi diceva dormire a casa di una fiorista l'affitto breve non è il suo lavoro principale magari non mi sa non sa fare bene questo lavoro quindi cercate sempre di scavare nella psicologia però sì mancano le foto di tutti i punti di interessi di interesse posti nelle vicinanze utilizzo solo Airbnb una volta che ingrano un portale l'altro non riceve le prenotazioni sì ma nel dubbio intanto meglio che tu ci sia secondo me che magari te ne arrivano meno ma comunque meglio esserci che non esserci io quando vedo questi copri divano impazziscono perché io dico capisco che avete paura che vi rovini il divano ragazzi ma è un business e quindi sapete che quel divano è utilizzato per Airbnb tra due anni lo cambierete ma utilizzare sti copri divano terribili poi che fanno un contrasto incredibile non si può vedere se io vi prendo dieci annunci di dieci studenti di B&B Academy sono tutti perfetti dieci annunci di persone che non sono di B&B Academy non ce n'è uno che si salva questo vi dovrebbe far riflettere comunque titolo ancora una volta angolo di Roma vicino alla metro quale metro con questa metro dove arrivo arrivo al Colosseo non ci arrivo devo fare dei cambi quindi il titolo completamente gannato copri divano non si può vedere le foto non sono professionali la tv c'ha uno sticker attaccato lì cioè togliete sempre gli sticker dagli elettrodomestici dalle lavatrici microonde forni non si possono vedere queste cose qui queste emoji questo peluche giochi buttati quella cioè no mi danno l'idea di questa è casa mia quando non ci sono l'affitto sta spina attaccata qua così a caso non ha senso tovaglia orribile piatti di colori diversi cercate di dare un un filo di continuità poi a volte il divano il copri divano a volte no le foto verticali smetteremo di dirlo no questo rotolo da cucina industriale queste bottigliette appoggiate lì i manuali degli elettrodomestici insomma zero cura no non ci siamo il tavolo con la tovaglia senza la tovaglia l'estintore buttato lì no questi queste sedici questi sedici verruttori diversi metteteci degli sticker sopra trasparenti fatti con un'etichettatrice perché sennò uno gioca a fare il pianista per cercare di capire cosa sta accendendo cosa sta spegnendo quindi su ognuno fate un'etichetta carina trasparente con scritto non so cucina sala cercate di semplificare anche perché sennò uno fa prima lasciare le luci accese piuttosto che a capire cosa deve spegnere poi le bollette però le pagate voi camera da letto carina mi sembra un po' sottodimensionato l'arredo cioè i quadretti mi sembrano un po' striminziti i comodini un po' striminziti rispetto allo spazio però devo essere onesto è la parte meglio arredata però room 1 e room 2 sono talmente uguali che se non mi fossi focalizzato sul fatto che i quadretti hanno una scritta diversa mi sembra la stessa stanza dovete distinguerli molto bene ora ormai gli arredi li hai comprati non li puoi cambiare quindi puoi utilizzare un software di grafica e scriverci sopra proprio nella foto suite numero 1 suite numero 2 e cercate di chiamarle suite che suona molto più figo rispetto a room o camera da letto master suite e junior suite però le hai fatte talmente simili che uno potrebbe non accorgersi che stai parlando di due camere diverse addirittura room 3 cioè sei pieno di stanze ma sono tutte uguali poi un po' moderno un po' classico un po' miscuglio però vabbè questo è quello che passa al convento sicuramente un immobile che opportunamente gestito con il metodo bmbh mi può fare un sacco di soldi queste foto sono terribili sembra di stare a bagdad quindi le toglierei proprio non so non danno valore balcone lato sud balcone lato nord cioè o nel balcone ci metti dei tavolini un po' si accendere qualcosa oppure così è come non averli i vasi con i tronchi secchi anche no poi io spero che voi non vi offendiate però che bellissima questa cassette della posta dentro il portone che me frega a me che sono ospite delle cassette della posta dentro il portone poi mi spieghi cassetta dove lasciare le chiave al check però non so neanche se lo spiegherei perché non è un metodo molto innovativo di fare check in e check out piuttosto glielo dici dopo che hanno prenotato anche sta foto del portone è inutile e vabbè la foto dello schermo fai un bello screenshot da via del finocchio in poi bellissima via del casale del finocchio ottimo mancano le foto di tutti i punti di interesse insomma molto 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 migliorabile però nonostante ciò hai delle buone recensioni quindi significa che puoi che puoi che puoi fare molto meglio santino metterei una una tua foto del tuo volto che secondo me è molto meglio rispetto al prenotare da un brand i prezzi 181 se sono uno mi sembrano mi sembrano dei buoni prezzi però probabilmente opportunamente puoi fare di più secondo me puoi fare di più e se questo divano letto lo apri diventano 8 posti letto secondo me con 8 posti letto chiedi tranquillamente anche 350 euro a notte però è da fare una buona ricerca di mercato ultimo oh va che belle foto finalmente oh tutte le foto assegnate agli spazi e scapata perfetta piscina scapata perfetta sarebbe la fuga romantica perfetta ora purtroppo qua ci sono le foto di century 21 quindi tu hai riciclato purtroppo le foto dell'agenzia immobiliare che ti ha che hai rubato col watermark se l'hai comprata da loro potresti chiedergli di darti le foto tanto le hai spese un sacco di soldi senza il watermark perché così può sembrare anche quasi che le hai rubate queste foto di questi immobili non sia realmente tua le foto sono belle e si vede che è stato fatta home staging con cura cioè vedete il dettaglio il cuscino come è stato appoggiato le lenzuola non sono stropicciate cioè si vede quando un immobile è stato arredato con cura penso lo notiate voi stessi comunque un po' di piastrelle sono ingiallite però è spettacolare fronte la marina pure la piscina condominiale oddio una foto della piscina condominiale avrei fatta senza queste cianfusaglie il tubo giallo e quant'altro però comunque rimane un'ottima foto mancano le foto dei punti di interesse posti nelle vicinanze non ho visto da nessuna parte i set di cortesia appartamento porto mar descrizione brevissima non conosco questa località minimo due notti tu hai sia rimborsabile che non rimborsabile non hai costi di pulizia anche qui può essere fatto molto meglio sunny days rental cosa sei un host professionista mi fa un po' sorridere quando vedo questi profili che sembrano dei brand però poi apri c'è un immobile secondo me fino a che hai pochi immobili meglio presentarsi come persona fisica dopo quando ne hai tanti magari ti puoi anche creare un piccolo brand ma uno gli fa un po' strano insomma secondo me che ci sia un brand con un solo immobile io se un amico dice Ludo secondo te questa casa la dovrei prenotare mi direi guarda mi sembra una truffa perché è un appartamento nuovo pubblicato da un brand non ha recensioni le foto sono prese dal sito dell'agenzia immobiliare non lo so mi puzza un po' ecco se le foto invece non avessero il watermark ci fosse la faccia della persona e tutto quanto mi darebbe mi darebbe un po' più di di senso di solidità ma questo è solo il mio umile parere i costi di pulizia anche strano che non ci siano cioè se uno si preoccupa del dell'immobile di solito i costi di pulizia li mette anche il fatto che non ci siano questi costi puzza un po' bene siamo giunti al termine di questo video spero che anche tu abbia capito bene o male quali sono gli elementi che rendono un bnb più efficace rispetto ad uno invece meno efficace ovviamente queste sono cose che spieghiamo per filo e per segno all'interno di bnb academy infatti oltre alla facciata tra virgolette che abbiamo potuto vedere in questo video c'è tantissimo lavoro dietro che con le nostre guide praticamente step by step vi garantisce il successo assoluto sulla piattaforma di airbnb e non solo perché poi abbiamo anche booking ti ricordo ancora una volta che qua in descrizione trovi un sacco di contenuti gratuiti pazzeschi come quello che hai appena visto e ti chiedo ancora una volta di mettere un bel mi piace e iscriverti al canale qualora non lo avessi già fatto Ludovico Cianchetta Vasquez bnb academy è tutto ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti